prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente un grazie dal profondo del cuore nel nome del padre del figlio e dello spirito santo o splendore eterno del divin padre sospiro e conforto dei credenti santo bambino gesù di gloria incoronato abbassa il tuo sguardo di bontà su tutti coloro che a te ricorrono fiduciosi mira quante calamità e amarezze quante spine e dolori intrecciano il nostro esilio abbi pietà di chi tanto soffre qua giù pietà di coloro che piangono per qualche sventura di coloro che languiscono e gemono su un letto di dolore di coloro che son fatti segno di ingiusta persecuzione delle famiglie senza pane o senza pace pietà infine di tutti quelli che nelle varie prove della vita in te fidenti implorano il tuo soccorso divino le tue celesti benedizioni o santo bambino gesù in te solo l'anima nostra trova il vero conforto da te solo si può attendere la tranquillità interiore quella pace che allieta e conforta volgi o gesù sopra di noi il tuo sguardo pietoso mostraci il tuo sorriso divino alza la tua destra soccorritrice e allora per quanto amare possano essere le lacrime di questo esilio si muteranno in una rugiada di consolazione o santo bambino gesù conforta ogni cuore afflitto e a noi dona tutte le grazie di cui abbiamo bisogno amen in questo santo natale che la benedizione del bambino gesù e del cielo intero possa discendere su di voi e sulle vostre famiglie ciao e a presto